Sono trascorsi dieci anni da quella tremenda notte. Il 6 d'aprile è arrivato e il nostro arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi, vuole affidare alle telecamere del capoluogo il calore della fede. Il terremoto del 2009 ha lasciato tante macerie, ma soprattutto tantissime ferite dentro gli aquilani, dentro ognuno di noi, tantissime tragedie visibili ed invisibili e forse quelle spirituali sono le più profonde e le più difficili da sanare. Quanto la fede e la vicinanza alla comunità religiosa possono colmare le ferite e le voragini provocate da questa immane tragedia? L'esperienza secolare della Chiesa dimostra che la fede costituisce una luce e una fossa straordinaria per affrontare i problemi nella vita, anche nella versione drammatica. Ma anche le scienze umane confermano che la capacità di dare significato alla sofferenza è il primo modo per superarla, non nel senso che la sofferenza viene azzerata. La sofferenza c'è, ma non ci uccide dentro, perché è il dolore a cui non riusciamo a dare un significato che ha potere di ferirci profondamente nella nostra anima. La fede non soltanto ci consente di sapere che Dio abita i nostri giorni, anche quelli visitati dalla croce, ma che tutto nel Signore Gesù può diventare spinta verso il bene, verso la novità, verso la pienezza. Noi stiamo accostandoci alla Pasqua e sappiamo che proprio il tunnel della morte non conduce al nulla, ma in Gesù apre le porte per la novità gloriosa, splendida della risurrezione. Quindi la fede ci aiuta a credere che dentro ogni situazione che per noi può essere di oscurità c'è sempre una luce e ci è data sempre la forza per ricavare anche dal male un bene. In questi lunghissimi dieci anni si è pensato molto alla ricostruzione delle case, ma la Chiesa e lei come arcivescovo della nostra città ha dovuto curare la ricostruzione più difficile, cioè la ricostruzione delle persone. Io ho sottolineato molte volte che ci sono due terremoti. Il terremoto più direttamente percepibile è quello architettonico, è quello abitativo, è quello che si vede sui muri crepati, demoliti, ma c'è un terremoto dell'anima che non è facile raggiungere, proprio perché spesso è custodito dietro dei ripari che possono diventare anche barriere. non è solo cammino faticoso per chi sta all'esterno poter avvicinare questi drammi che sono dentro il cuore, nella mente, ma la stessa persona non trova semplice raggiungersi dentro queste situazioni che possono essere così traumatiche da spingere a, come dire, metterle in una sorta di deposito interno, in un archivio della memoria chiuso a chiave. Allora ricostruire le persone significa sapersi fare prossimi e poter dare un annuncio di speranza e di pace. Il dolore che gli Aquilani hanno dovuto conoscere, loro malgrado, in quella tremenda notte, attraverso la solidarietà si è fatto speranza e l'Aquila è stata davvero al centro di una solidarietà incredibile da parte di tutti i fratelli e abruzzesi e addirittura di tutto il mondo. La solidarietà è stato un grande elemento anche di speranza appunto per gli Aquilani. Sì, sapendo che la solidarietà non sta solo nel prestare soccorso, ma è nel rendersi vicini, cioè non è dare qualcosa, ma è darsi, cioè spendersi come persona. C'è solidarietà quando il bisogno che diventa opprimente viene condiviso da chi mi raggiunge nella situazione che per me è di dolore. E ciò che conta è quel messaggio che viene trasmesso non a parole, ma attraverso i gesti, attraverso la grammatica della buona redazione, e cioè ti voglio bene. Quindi ciò che è tuo è anche mio. Quella condizione che tu stai vivendo e che in qualche modo sembra atterrarti, in realtà è una vicenda che trova anche dentro di me, dentro gli altri, una risonanza che ci rende un'unica famiglia. Ecco, la solidarietà sta nel sentirsi un noi, un noi vero, coinvolgente, fattivo, un noi samaritano, per usare l'immagine del Vangelo. Quanto è vero tutto questo, davvero. La cosa più difficile è riuscire ad uscire dalla solitudine del dolore e rendersi conto che qualche di un altro possa comprendere, senza essere magari protagonista della tua stessa tragedia, credo che sia la cosa più straordinaria, perché ti induce a tirar fuori il dolore. E quanto avvicina a Dio questo sentimento di gratitudine, su eminenza? Siccome Dio è amore, ogni forma di amore parla di Lui e porta a Lui. Quindi la capacità di essere per l'altro un segno di bontà, una partecipazione che non è soltanto operativa, ma che nasce da una interiorità convinta, qualunque comportamento che sia caratterizzato da questa volontà di stare accanto è espressione di Dio. E quindi diventa più facile in queste occasioni, proprio nella sofferenza, sperimentare che c'è qualcuno che non ci lascia soli e che può accompagnarci attraverso un cammino faticoso, ma che è aperto a un di più. Ecco il messaggio della speranza. E in tantissimi sono stati i volontari e i soccorritori che si sono recati al fianco degli aquilani, in quei tremendi mesi dell'emergenza post sisma. E forse sbagliamo se diciamo che il significato di questa solidarietà e di questo volontariato può essere la più grande forma di amore che avvicina a Dio? Sicuramente, anche perché l'amore dentro di sé ha una spinta che provoca la reciprocità. L'amore ricevuto diventa anche un amore che si dà, un amore che viene accolto diventa anche un amore di ritorno. Allora si creano quei circuiti positivi che non soltanto consentono alle persone di affrontare insieme il problema, ma di sapere che quella realtà comunitaria è abitata dalla presenza del risorso. È fondamentale essere certi che anche da una situazione terribile si può venire fuori. C'è una frase della scrittura che per me è stata sempre di grande conforto. Dice che il Signore non permette mai che noi siamo sopraffatti dalle circostanze esterne, ma insieme al problema che lui permette, anche se non lo vuole, perché ci sono situazioni che il Signore non avrebbe provocato perché vengono dagli altri e dalla cattiva volontà di anche persone che ci stanno vicine, ma il problema, qualunque sia la forma con cui si presenta, non è destinato ad avvolgersi e soffocarsi. Sempre insieme alla difficoltà ci dà la forza per affrontarla e la via di uscita. Quindi noi non cadiamo mai in un pozzo da cui non possiamo risalire. E' vero che con le nostre forze non ce la facciamo, ma è vero che qualcuno è pronto a calarsi là dove noi siamo e aiutarci a ritornare in superficie, a ritrovare la luce e la strada che ci conduce al meglio. Perché Dio non turba mai, diceva Manzoni, la nostra gioia se non per prepararne una più grande. E allora in questa giornata di grandissimo dolore che ci unisce, che unisce tutti gli Aquilani e tutte le persone che in questi mesi, soprattutto nei mesi successivi al sisma, ci sono stati vicini, a tutta l'Italia che ci ha osservato mentre combattivamo per cercare di ricostruire la nostra città. Come ha detto anche il nostro sindaco, in un giorno in cui gli Aquilani fanno i conti con quello che è stato il tempo precedente a questo anno zero, che è l'anno zero degli Aquilani, e il tempo successivo le parole del nostro arcivescovo ci danno la forza, ci danno la speranza di poter trovare ancora di più nell'amore, nella condivisione di sentimenti positivi la forza di resistere, di ricostruire la nostra città e soprattutto la nostra grande comunità. Noi ringraziamo il Cardinale Giuseppe Petrocchi per aver dato al capoluogo l'opportunità di trasmettere queste parole straordinarie. Sono io che ringrazio voi perché mi avete offerto questa occasione per incontrare tanta gente che forse non avrei avuto modo di avvicinare, quindi esprimo una riconoscenza cordiale e sincera. Grazie, grazie a tutti e a loro per averci seguito, un abbraccio fortissimo dal capoluogo, dalla redazione del capoluogo, da Roberta Galiotti e grazie infinite e sua eminenza.